Ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video. Oggi mi preparo con voi e voglio provare lo Skin Realist di Nabla. La colorazione che ho preso io è la 2, light, mi sembra che sia la seconda colorazione. L'altro prodotto che ho voluto prendere è questo, sempre di Nabla, che può essere utilizzato come blush, come prodotto per le labbra, come terra. Ve lo mostro, la colorazione che ho preso io, ve la mostro così, penso che sia questo il nome. Iniziamo dalla parte di sinistra, questo è il blush, che può essere utilizzato anche come lip, il colore è quello che piace sempre a me, quindi tra le quattro colorazioni ho preferito quella. Questo è il glossy, che può essere utilizzato, io non l'ho messo, per illuminare, oppure io l'ho utilizzato un po' sopra l'altro quando l'ho messo nelle labbra, per cercare di dare un effetto un po' più idratato. Comunque mi piacciono tantissimo, la palette è molto bella e io amo molto i colori in crema. Le colorazioni sono quattro, questo è il glossy, si vede pochissimo, e poi l'altro è il blush. C'è ancora nello specchietto la pellicola, anche qua sopra, dopo la levo, il pack è molto bello. Questa veniva, se non ricordo male, intorno ai 22 euro e il fondo veniva intorno ai 28 euro, qualcosa del genere, 30 euro. Siamo insomma giù di lì, ho speso in tutto 50 euro e mi hanno dato in omaggio la pochette. Niente, io sono soddisfatta, qua è già sporca. Le cialdine sono da 5 grammi. Comunque come prodotti mi piacciono, mi sembrano per il momento validi. All'inizio non volevo comprare altro make up, ma alla fine ci sono cascata e sono contenta. La bottiglietta è in plastica e contiene, se non ricordo male, 48 ml di prodotto. La ragazza mi ha spiegato che il prodotto non va sprecato, perché all'interno c'è una specie di statufo che riporta tutto il prodotto verso l'alto. Quindi, anche se non è un prodotto proprio economico, è senz'altro un prodotto dove c'è un buon rapporto qualità-prezzo. La colorazione è perfetta per me, la 02. Vi lascio il resto del video. Sono dei prodotti in crema, mi ha tratto per questo. Incomincio, perché sono in ritardo, oggi devo fare delle analisi e quindi devo uscire prima. Questo è il prodotto, il pack. Pensavo che la bottiglietta fosse in vetro, invece in plastica. All'interno il prodotto non rimane perché ogni volta che fuoriesce sale una specie di stantuffo che c'è all'interno. Quindi rimane pulita la confezione e pian piano riporta su tutto il prodotto. Allora, io direi di incominciare. Non so se si agita, presumo di no. Io l'applicazione di oggi la vado a fare con le mani. Mi sono scordata di mettermi la crema, vado preparato. Ho preparato la mia solita crema, quella della Lidl al miele. A me piace troppo. Farò con voi solamente il fondo, metterò il blush, metterò il prodotto in blush anche nelle labbra e basta perché il resto del trucco lo terminerò in macchina perché, come vi ho detto, sono in ritardo, in forte ritardo. L'avrei voluto far asciugare ma non ho tempo. Allora, quello che mi ha attirato, forse io l'avevo visto anche nel canale di Ornella, Selvaggia Bellezza, forse anche in quello di Eleonora Mocio, non mi ricordo. Non volevo comprarlo perché, mentre parlo intanto, questa è la consistenza, incomincio con poco prodotto e io oggi lo applico con le mani. Quello che mi ha attirato di questo prodotto è il fatto che contenesse acido ialuronico, prendo un altro puff, e che quindi anche pur non avendo molta coprenza, che a me non importa, lascia la pelle idratata. Adesso io purtroppo nel telefono non mi vedo un gran che, quindi perdonatemi se ogni tanto mi sposto, però probabilmente una cosa che avrei dovuto fare e attendere che si asciugasse un po' la crema, però mi sono fatta la doccia in velocità e il tempo che ho a disposizione, come vi ho detto, è talmente poco che... e volevo incominciare ad adoperarlo. Io andrò a settare il prodotto con la mia cipria, quella invisibile, perché penso che mi possa piacere leggermente di più, non mi disturba il fatto di vedere la pelle più idratata e più lucida, però... Ovviamente prima andiamo a mettere il blush... Lo sento molto idratante, forse avrei potuto bypassare oggi la crema viso. Il primo prodotto l'ho provato e come prima impressione mi piace, passiamo al secondo prodotto. Prelevo questo e vado, non conoscendo quanto è pigmentato, vado a piccole dosi. Poi lo sfumo... Poi lo sfumo... Poi lo sfumo... Eccolo... Poi lo sfumo... Ecco... Non conoscendo... Non so... Tutto… Beh... Non so... Prego... Cosate che mi guardo, perché... Perché provo... Vibo mettere... mi prendo un pennello arrivo allora sono andata a recuperarmi un pennellino anche se si sfuma bene con con le dita però poi andiamo a metterne direttamente in volta lo chiudo nelle labbra visto che posso mettermi gli occhiali io purtroppo non vedo un granché l'ho messo anche nelle labbra o le labbra secchissime poi vado a settare tutto con la mia cipria che mi aveva inviato stylevana adesso vado a disegnarmi in velocità le sopracciglia ho deciso di annullare l'appuntamento per le sopracciglia grazie roberta mi ha salvato tu sai vado a farle abbastanza naturali poi vado a prendermi un altro prodotto metto nelle palpebre il prodotto di Niloufar la colorazione è l'accento champagne l'ho adoperato ieri vi ho detto faccio proprio un trucco semplicissimo niente di che stamattina non sono al lavoro perché lunedì mattina noi siamo chiusi lo lascio asciugare se riesco mi metto l'eyeliner e mascara in velocità e ci vediamo subito qui eccomi mi sono legata i capelli ho terminato il trucco e vi volevo intanto mi metto il mio profumo quello di Kiko della collezione di San Valentino e vi volevo far vedere cosa mi hanno dato in omaggio con i due prodotti questa pochette di nabla è ancora qua incartata vediamo se riesco c'è anche la plastica ma c'è un filetto da levare all'interno è morbidissima e ha questo tessuto questa pochettina la vedo molto bene anche in un outfit estivo in sostituzione della borsa quindi come pochette vi mostro il trucco farò una piccola ombreggiatura in macchina qua con del nero o del marrone e basta per il momento rimango così perché ho la mascherina comunque sulla pelle mi piace voi che cosa ne pensate il video termina qua come prime impressioni sono molto soddisfatta mi piace tantissimo anche la pochette però mi piacciono molto entrambi i prodotti il video termina qua spero come sempre di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo prestissimo buona giornata